Una manifestazione importante questa mattina nella Pineta Mirtina, un'area dedicata ai marinai, soprattutto quelli delle Capitanerie di Porto. Presidente, come mai è nata questa idea e l'importanza di questo evento? Quest'idea è nata soprattutto all'amministrazione di Ischia. C'è stata una sinergia tra il Comune e l'Associazione Unzi, che io rappresento, con i miei soci e il Presidente Onorario Vito in Pagliazzo. Abbiamo questa idea, è nata in una serata tutti quanti in un consiglio e sembrava una cosa impossibile da realizzare. Poi abbiamo prospettato la situazione all'amministrazione e abbiamo avuto pieno appoggio, pieno appoggio di tutte le associazioni e siamo riusciti a dare a questa Pineta uno spazio, uno spazio di cultura, perché questo non è solo uno spazio intitolati alle persone che hanno sacrificato la loro vita per la patria, ma per i giovani. Perché la Pineta è un luogo di aggregazione, un luogo dove si riuniscono tante persone. E quindi i ragazzi, passando di qua, vedendo questo spazio, avendo a disposizione il QR code col telefonino, possono scaricare tutta la storia di queste persone che hanno donato la loro vita per la patria. E per renderci noi un giorno in democrazia è tutto il bene che ci troviamo adesso. Sono storie di persone che hanno sacrificato, che hanno lasciato le loro famiglie, come il tenente di Vascello Castagna, giovane tenente, lasciato la propria terra di Ischia per andare in guerra e ha sacrificato per salvare altre persone. Sono storie importanti, sono storie che danno un significato. E noi dobbiamo continuare queste tradizioni. Io ringrazio tantissimo il sindaco e l'amministrazione per averci dato questa possibilità di collaborare con loro e darci proprio carta bianca in tutta l'attività. Devo ringraziare soprattutto tutti i soci dell'associazione che hanno partecipato attivamente, proprio attivamente a queste azioni e nient'altro. Io vi ringrazio per questa giornata che ci siete venuti incontro e spero che questo sia uno spazio bellissimo per tutta l'isola. È un'occasione importante per l'isola di Ischia e soprattutto per quella parte importante dell'isola che va per mare. Questo ricordo, questa dedicazione di un'aria all'interno della Pineta Mirtina. Presidente Brandi. Sicuramente è da apprezzare il momento di intitolare uno spazio della Pineta Mirtina ai marinai e alle capitanerie. Però tengo a precisare una cosa. Noi di questa presenza e di ricordare i nostri caduti o anche quelli che hanno operato sul mare, c'è un bellissimo monumento a Piazza Antica Reggia. Questo è un doppio che sta anche bene. Diciamo che stamattina è un momento particolare perché abbiamo qui con noi il direttore generale delle capitanerie, l'ammiraglio Pettorino, che da quello che ho saputo a breve lascerà l'incarico per pensionamento. Noi dell'Associazione Marinale d'Italia siamo sempre presenti e vicini, siamo numerosi. Stamattina siamo qui a omaggiare quelli che sono i nostri eroi che ci hanno lasciato in passato. Ringrazio il sindaco, il consigliere Balestrieri, che è il comandante della Capitanerie, che hanno tenuto particolarmente ad averci qui presenti. Non è una nostra organizzazione ma è un'organizzazione di un'altra associazione che noi plaudiamo comunque perché quando si ricordano i nostri eroi, i nostri caduti, è importante che ci sia una presenza dei marinai d'Italia. L'intitolazione di un nuovo spazio dedicato nella pineta mirtina ai marinai, non soltanto quelli che lo fanno per lavoro ma soprattutto quelli che poi ci difendono e tutelano il nostro mare come quelli uomini delle Capitanerie. Sindaco, è un segno importante del passaggio di una comunità? Sicuramente è importante per la nostra comunità avere dei luoghi che evochino chi per il passato ha dato anche la propria vita per consentirci le libertà sul mare ed è bello che lo si faccia in uno scorcio di pineta creando un connubio tra due risorse per noi fondamentali, per la nostra comunità, il mare e il verde sulla nostra isola. Ischia è l'isola verde per Antonio Masi e quindi era giusto e doveroso che si celebrasse questa iniziativa all'interno della pineta mirtina. Ammiraglio Pettorino, allora un'area della pineta dedicata agli uomini di mare è alle Capitanerie. Lei più volte nel suo discorso ha sottolineato l'importanza del ricordo, che resti vivo. Non c'è futuro se non c'è una memoria. Questo ogni popolo lo sa e ogni popolo deve coltivare la propria storia. Ischia ha una grande storia immersa nel passato. Uomini di Ischia hanno lavorato sul mare, uomini di Ischia hanno anche perso la vita sul mare e per il mare. Oggi Ischia è una perla riconosciuta in tutto il mondo, è un dono della natura e se è quella che è oggi lo dobbiamo anche al lavoro di tante persone che sul mare hanno veramente speso la loro vita. Ovviamente è importante adesso, lei lo diceva, saper completarsi la sua carriera in prima linea, quindi ritornerà un attimo a godersi anche la nostra isola. Un bilancio, qualcosa che ricorda di importante, che ha caratterizzato la sua permanenza lì nella Capitaneria. Io concludo il mio percorso professionale che è di oltre 40 anni. È un pezzo importante della mia vita. In questo periodo, calcando anche le tradizioni di quest'isola, le tradizioni della mia famiglia, ho servito il mio paese sul mare, cioè su quelli che erano gli interessi dell'Italia sul mare e nel mare. Ricordavo che dal mare noi ricaviamo il 3% del nostro prodotto interno lordo, ma se pensiamo e a questo accoppiamo, uniamo anche ciò che noi ricaviamo dal turismo balneare, ecco questa parte di prodotto interno lordo diventa molto molto più grande, molto molto più importante. E quindi è quanto di più vero aver lavorato per lo sviluppo del proprio paese, averlo fatto in un ambiente, in un contesto che era a me familiare, il mare, averlo fatto in un contesto che amavo, il mare, mi ha spinto a lavorare con grande passione, tant'è vero che oggi, che mi stavo approssimando alla pensione, dopo 44 anni al servizio del mio paese, ecco dico una cosa che può sembrare strana, ma è vera, mi sembra di non aver mai lavorato, proprio perché l'ho fatto con tanto amore e tanta passione. E allora vorrei dire a tutti i giovani, cercate di amare il vostro lavoro, cercate di amare e farlo con passione il vostro trascorso professionale, perché lavorare con passione e lavorare con amore rende due cose, uno, rende molto di più quello che si fa e secondo, aiuta a vivere meglio noi stessi e anche gli altri.